Stand up, ovvero come promuovere nuove forme di aggregazione sportiva per i ragazzi fino a 15 anni. Nella Sala Pignatiello a Palazzo San Giacomo è stato presentato il progetto sperimentale promosso con questo nome dal Centro Sportivo Italiano. Sono intervenuti l'assessore allo sport Pina Tommasielli, il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito, il direttore nazionale dell'area promozione e sviluppo del Centro Sportivo Italiano Michele Marchetti ed il consigliere di presidenza nazionale Salvatore Maturo, oltre a dirigenti, docenti ed alunni delle scuole coinvolte. Il progetto si svolge in 11 città capofila e coinvolgerà in 12 mesi di attività oltre 40 scuole ed almeno 2.200 alunni in un percorso sportivo innovativo che prevede un torneo, 9 sport ed un raduno nazionale a Lignano-Sabbiadoro. In rappresentanza dell'area di Napoli parteciperanno la scuola media Marino Guarano di Melito, la scuola media Ada Negri di Villaricca, l'istituto comprensivo Antonio Custra di Cercola e l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Napoli. Sappiamo che la scuola vive enorme difficoltà, anche economiche, e quindi tutte queste forze sociali, tutte queste associazioni che riescono ad essere di complemento e di supplemento all'attività scolastica, quindi prendendosi questi ragazzi dalle classi e portandoli fuori sui campi sportivi o all'aria aperta non possono che vederci dalla loro parte e pensiamo che per quanto possibile l'istituzione sarà vicino.